questo è il calendario dell'avvento ormai lo sapete questo è anche il canale di anime dal mondo e io sono alex quinto consiglio che vi posso dare è ancora basato sui colori questa volta un'altra un altro brand un altro marchio e con dei determinati colori molto specifici e ve li faccio vedere che sono questi ne abbiamo già parlato anche in un video scorso in un video tradizionale dove vi ho fatto vedere effettivamente come sono questi colori vi lascio magari il link qua sopra come la playlist di questo calendario dell'avvento questi colori sono fantastici a me piacciono veramente un sacco e questo pack che ha dentro anche 16 sfere le sfere appunto andate a vedervi l'altro video e vi spiego anche cosa sono questo è un video molto breve per darvi queste idee regalo per voi o per amici o parenti eccetera però devo dire che questo pack non ha praticamente difetti pregi tantissimi difetti 0 secondo me 0 perché voglio dire sono colori molto particolari dall'oro al bronzo sono veramente belli e quindi secondo me non c'è niente da dire comprateli cosa vi devo dire è tutto qua dovete solo comprarli questi perché sono veramente belli io vi lascio e ci sentiamo domani perché domani arriva un altro video come al solito fino al 22 di dicembre un video al giorno perché questo pazzo qui si è messo in testa questa cosa e noi appunto ci vediamo domani da alex anime del mondo è tutto ciao